E' emergenza sicurezza nel Cilento. Sono tanti, troppi gli episodi di violenza e non solo, che si stanno verificando nelle ultime settimane, soprattutto nelle località turistiche ancora gremite di visitatori, lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. Furti, incendi, risse, pestaggi e persino un rave party che, come riportano le cronache locali, verrebbe organizzato illegalmente in barba alle norme anti-covid-19 intorno alle aree protette del fiume Calore, di cui però nessuno si occupa. Così non si può andare avanti perché i cittadini sono esasperati per questa continua escalation di criminalità che sta interessando la zona sud della provincia di Salerno ormai da troppo tempo. Ritengo, aggiunge Cirielli, che il questore e il prefetto debbano interessarsi maggiormente della questione per delineare strategie più efficaci e incisive, con l'obiettivo di evitare che episodi del genere si verifichino in futuro. Presenterò nei prossimi giorni un'interrogazione parlamentare al ministro dell'interno Luciana Lammorgese per sapere quali misure il governo ritenga di dover assumere per arginare la pressione crescente della criminalità e cosa tenda a potenziare i presidi delle forze dell'ordine nel territorio occidentano. Residenti e turisti hanno tutto il diritto di vivere in tranquillità e non nel terrore le loro vacanze, conclude Cirielli.